La mostra di Elio Pulli, Guido del Turco. Questa è una ripresire che sto per il Duomo di Sassari. La donna di Ergozio, quella donna che porta avanti la famiglia, che vede e non parla. Avere questo silenzio così dovuto all'esperienza, le cose che vede e che non deve stare zitta. Tra le sale del Vittoriano a Roma veniamo accompagnati da un artista, sardo di adozione, pugliese di nascita, che espone per la prima volta qui i suoi quadri e le sue ceramiche, Elio Pulli. La sua giovinezza vissuta nella capitale, la sua creatività forte e prorompente. I suoi lavori risentono dei grandi del Novecento che ha frequentato con assiduità. Guttuso, Maffai, De Chirico, Picasso. È un cavaliere saggio, cioè il proprietario terriero. C'è quello che possiede distese di terreno, che va a controllare i suoi poderi e chi ci lavora. Quindi l'uomo ricco, l'uomo che fa le sue dipendenze, li controlla, vede, c'è un atteggiamento da padrone. Elio Pulli racconta tutto ciò che lo ha circondato, paesaggi e nature morte, volti noti e gente comune. La mostra sarà al Vittoriano fino alla 9 di ottobre. E ora c'è la pubblicità.